La dunata dei record sulle emittenti dei record, dove gli alpini sono di casa e dove ancora una volta hanno fatto breccia nel cuore di quasi un milione e mezzo di telespettatori che hanno seguito la dunata di Vicenza su Antenna 3, Rete Veneta e TV12. Un segnale chiaro di un legame profondo che il gruppo Media Nord-Est ha saputo costruire e mantenere con il territorio. Dunque ancora una volta record infranti per il gruppo Media Nord-Est che ha trasmesso l'evento con una copertura integrale iniziata dalle prime ore della mattina e che si è protratta fino alle cerimonie serali offrendo interviste, immagini esclusive e momenti di grande emozione che hanno catturato gli spettatori davanti allo schermo confermando una supremazia schiacciante rispetto a tutta l'offerta televisiva locale concorrente. Antenna 3, leader assoluta per ascolto medio e ancora una volta prima TV in Veneto. Rete Veneta si conferma al secondo posto assoluto per ascolto medio certificato Auditel. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo con messaggi dal Sudafrica, Stati Uniti, Canada, Romania, Germania e Spagna e che ha saputo abbinare emozione e cronaca, racconto e suggestione. Un milione e mezzo di grazie agli Alpini e al Veneto e adesso appuntamento a Bibione dove si terrà la prossima adunata a Triveneta con noi di Media Nord-Est sempre al fianco delle penne nere.